Tre obiettivi, tre sfide il Papa ha consegnato ai membri della Lega di Preghiera del Beato Imperatore Carlo per la pace dei popoli ricevuti in Vaticano in occasione della loro Assemblea annuale e nel contesto del centenario dell'iniziativa intrapresa da Benedetto XV e poi appoggiata appunto dall'Imperatore Carlo per porre fine alla strage della Prima Guerra Mondiale. Primo obiettivo, cercare osservare la volontà di Dio ancora, impegnarsi a favore della pace e della giustizia, infine espiare con la preghiera e il sacrificio l'ingiustizia che dilaga nel mondo, aiutando così il successore di Pietro nella sua missione. Le sfide del nostro tempo richiedono la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà e in particolare la preghiera e il sacrificio. Vi invito quindi a mantenere la vostra promessa di prendere parte con la preghiera e l'impegno personale ai monteplici sforzi del Papa a favore della pace. Senza il sostegno della preghiera dei fedeli, il successore di Pietro non può compiere la sua missione nel mondo. Conto anche su di voi. Conto anche su di voi.